A gennaio. Prima che saliamo sul palco dovete sapere che forse questa sarà l'ultima volta che canta Rimoziani. Avevo davanti a me una band grandiosa e non sono riuscita a vederla. Veramente noi la canzone l'abbiamo registrata. Esordire con un pezzo live. È la grande occasione per gli Alex & Co. Ma dov'è Christian? Bella domanda. E Alex deve ancora delle spiegazioni. Sembra che io sia l'unica a scappare da un pali. In più si tufferà in una grande avventura. Mi piace il nuovo logo della Blue Factory Records. Non ci posso credere, una casa discografica tutta nostra. Scontrandosi con la nemica di sempre. Guarda che io sono qui per realizzare un sogno. Anch'io sono qui per realizzare un sogno. Distruggere il tuo. Ovvio. E i suoi nuovi alleati. Ma rompere con Linda è stata la cosa più intelligente che abbia mai fatto. Così hai lasciato posto per me. Ivan. Sei sempre più bella, lo sai vero. Tu è l'ex di Cleo. Nuovi personaggi. Io sono me. Nuova musica e nuove storie vi aspettano nei nuovi episodi della terza stagione di Alex & Co. A gennaio, solo a Disney Channel.